L'archivio Mario Tozzi, pittore del Novecento, contemporaneo di Giorgio De Chirico e Gino Severini, ottiene l'ufficialità dal Ministero della Cultura. Un riconoscimento importante per la città di Fogliano che premia la passione e il lavoro di Roberto Tiezzi. Sì, è un riconoscimento dal Ministero della Cultura in realtà e praticamente è un riconoscimento che corona un po' tutta l'attività dell'archivio. Un'attività che dura da oltre 50 anni, è stato fondato dal maestro quando era vita e continua la sua attività fino ai giorni nostri. Contiene un patrimonio enorme fatto di documenti, nel fondo abbiamo all'incirca sui 2.500-3.000 volumi che riguardano il maestro Tozzi dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Contengono fotografie, contengono tutta quella che è la classificazione dell'opera pittorica di Tozzi. All'incirca sono 3.500 opere archiviate, catalogate e conservate in riproduzione fotografica. Chi potrà accedere a questo archivio? È aperto a tutti oppure è richiesta una procedura particolare? È richiesta una procedura particolare che deve passare dalla soprintendenza. La soprintendenza diceva se è meritevole per studio di visitare l'archivio. Comunque personalmente è aperto a tutti i collezionisti, a tutti quelli appassionati o anche semplici curiosi. A noi come archivio piace molto onorare la figura del maestro e quindi anche parlarne, anche questa intervista di oggi, è onorare la figura di questo grande maestro del Novecento. So che c'è anche la possibilità o comunque l'idea di far venire anche i ragazzi delle medie per far conoscere questi pittori del Novecento che forse sono stati un po' sottovalutati? Ma sotto il Novecento, la pittoria del Novecento, si tratta un po' di parlare dei maestri del Novecento, è forse uno delle epoche migliori dell'arte nel mondo. Cioè il Novecento è conosciuto tutto il mondo. Questi pittori come Tozzi facevano le mostre a Buenos Aires, a New York, i dipinti sono nel Museo di Mosca, nel Museo di Parigi, di questi grandi del Novecento. Quindi parlare un po' del Novecento è importante e è importante parlarne con i ragazzi che magari sanno poco di arte. Quindi mi piacerebbe sì parlare con gli studenti qui anche del nostro vicino istituto per parlare un pochino di arte. Tozzi ha vissuto due vite e lo possiamo capire dalle sue opere, una figurativa, una più geometrica. E lei prima ha parlato anche di una terza vita, grazie a questo archivio. Sì, gli artisti come i cantanti, i poeti e i pittori non muoiono mai. In realtà la terza vita è quella che li mantiene con la loro arte e gli archivi servono in questo caso a conservare la memoria dell'artista, del maestro. Qui è conservata la memoria del maestro, si sta parlando di conservare la memoria e comunque divulgare, grazie anche a queste interviste o alle visite in un archivio che cercherò in qualche modo di sviluppare. E la terza vita è qui. Grazie. Sì, siamo contenti, siamo soddisfatti del lavoro che ha fatto Roberto Chiezzi e la sua famiglia. Questo archivio che è veramente un piccolo grande patrimonio nel centro di Foiano ora ha un riconoscimento importante. Le Belle Arti e soprattutto la soprintendenza e il MIBAC ora hanno riconosciuto questo archivio come patrimonio culturale nazionale. Quindi questo vuol dire che il lavoro fatto nei tanti anni dalla famiglia Tiezzi è stato ricompensato. Oggi abbiamo qui un piccolo grande museo che è oltre all'archivio un insieme di cataloghi di questo grande artista che ripercorre non solo la vita e la storia di Mario Tozzi ma un po' di tutto il Novecento italiano. Qua ci sono le lettere che ha scritto a De Chirico, a Campiglio, insomma i grandi del Novecento e quindi averlo qua nel centro di Foiano per noi è un grande privilegio.